ciao buon pomeriggio a tutti vicini lontani lontani vicini lontani vicini lontani amici e non e parenti vicini lontani come state uomo falcone sono bellezza dei 37 35 gradi sentite per certi fiti 37 cavolaci ma andiamo quasi andiamo in africa facciamo belli uovo facciamo fritto uovo fritto e che dire voi amici miei oggi con 11 anni di amicizia con tonella santa tonella nardini lo hai conosciuto sono contento alla conosciuta ho avuto l'onore di conoscerla tanti anni fa tra un 5 6 anni fa l'ho conosciuta postata la foto tanti auguri al sorellina tonella ora tra un poco mi tocca anziché festeggiare mi tocca andare a fare il lavoro l'eticista da casa della mia madre purtroppo mio fratello un fulmine ahimè ha tirato una tonnata ha bruciato il salvavita speriamo che sia quello perché se altro hai voglia alla caccia del capo altro che dire vi voglio bene vi auguro una buona serata anzi buon pomeriggio buon penichella che viate a voi al mare viate il sole sono qui quindi il capelli che vi sono cresciuti si vedete si si vede si vede quanto che siamo anesi buon amici miei ho quest'anno anche pronto a corrigione spero che non sia negativa al covid ringrazio riccardo da corizia un carissimo amico che mi aiuterà a fare i lavori di mia madre e poi chi dirà forza e coraggio vi voglio bene sono un po fiacco mi piacerebbe bello mettermi in panchina acqua per la rifreschietta dormire non si può forza e coraggio andiamo avanti sono qua sulla pista ciclabile che vai verso l'ospedale l'ex spedale dopo arrivo fino all'ospedale nuovo e l'attuale spedale vi voglio bene grazie ancora saluto dario ti ringrazio natascia ha ricordato la mia storia parlando che anche qualcun altro che si muova di che trovi di qualcosa lo dice ora vado vado se non mi alzio non mi alzio più ciao a tutti grazie ancora buon anniversario ancora sorelina e che dire ancora iscrivetevi canali youtube franco tronzo su youtube mi raccomando un pomeriggio fate i bravi sotto la pizzeria benembriana la bellissima pizza anche piena e vabbè mangiato bene le ringrazio tutti loro e carlo saluto personalmente anche la famiglia ciao a tutti infatti bravi qua gubbi 1.3 terremoto un po meno meno che non è qui perché sennò veramente sempre caos un bacio saluto tutte le persone che mi seguono che mi guardano franco tronzo youtube e poi un'altra cosa ringrazio elia quell'intervistatore di fanpage che mi ha fatto l'intervista anche se certe cose ha sbagliato non hanno sbagliato lui ha sbagliato quelli che scrivono meglio così tanto posso dire grazie seguite il canale fanpage iscrivetevi e condivete il canale della diretta lì ti ringrazio spero che sei bene buon pomeriggio e alla prossima ciao cari e a care e fra poco sarà pubblicato nel canale youtube wow ciao